140 anni con le mani nel presente, lo sguardo verso il cielo, il cuore fra la gente 140 anni di passione e di speranza, cittadini dell'amore che raccontano la storia Donne e uomini, giovani e ragazzi che si incontrano così Una semplice famiglia è un incontro che nasce Ho aderito all'azione cattolica la prima volta a 10 anni, però una vera adesione, una consapevole adesione è quella dei 15 anni Ho scoperto in un modo che oggi forse sarebbe un po' strano l'ACR, direttamente da preeducatrice in qualche modo E sicuramente una persona significativa da questo punto di vista, che forse molti oggi non ricordano più come uno dei grandi dell'azione cattolica Don Peppino Lannia, il sacerdote assistente dell'ACR che ci ha condotti nella nuova azione cattolica L'azione cattolica del concilio, con altri naturalmente, ma per noi è stato lui per me, per alcuni altri È stato lui il passaggio attraverso il quale abbiamo scoperto l'azione cattolica del concilio Se dovesse ricordare le immagini di quei primi incontri, di quelle grandi, di quelle bellissime scuole associative Erano le immagini della Bibbia in una mano e del giornale nell'altra, quello che il concilio ci aveva insegnato Amare l'uomo e perciò attraverso l'uomo Gesù, incontrare Gesù Questo l'inizio, l'ACR, l'inizio sicuramente caratterizzato da questi volti, da questi incontri Da scuole di formazione intensissime, da momenti di spiritualità fortissimi Che ci facevano scoprire un altro modo di essere chiese e di essere radicati in Gesù Io sono entrata in azione cattolica in seguito all'iscrizione al MEC Quindi prima ho partecipato al MEC e poi attraverso le conoscenze, in modo particolare di Maria Rosaria Cerrone Abbiamo ripreso l'azione cattolica nella parrocchia di San Vitale E di lì piano piano sono state introdotte nell'ambiente dell'azione cattolica Ho conosciuto poi Don Luigi Saccone perché allora facevamo parte anche del Consiglio Foraniale E introducendomi poi in azione cattolica fui proposta a un certo punto di entrare a far parte a livello diocesano E ebbi l'incarico di vicepresidente insieme con Carmelo Cicano E di lì poi fui proposta successivamente come presidente La mia esperienza associativa è una lunga esperienza a dire il vero In quanto io sono aderente sin dall'infanzia all'azione cattolica Solo con un breve periodo di lontananza, quello legato anche all'adolescenza E quindi al rifiuto di tutte quelle che erano le scelte fatte in precedenza con l'aiuto della famiglia Sono ritornata in parrocchia intorno ai vent'anni E insieme all'ora parroco Don Raffaele Russo e poi viceparroco Don Franco Carannante Ho ripreso l'esperienza dell'appartenenza all'azione cattolica Ho iniziato come referente e quindi presidente parrocchiale E poi sono stata catapultata in diocesi come vicepresidente del settore giovani Insieme al gruppo di giovani a me sconosciuti perché provenivano tutti dalla foraniera di fuoridrotta Con i quali però ancora oggi ho rapporti di amicizia, di stima ed anche di affetto Perché in tutti questi anni in fondo abbiamo sempre camminato insieme Ed abbiamo cercato anche nelle diverse scelte e servizi all'interno dell'associazione o dei movimenti oggi Di far conoscere e quindi di portare ai giovani in modo particolare nella prima fase della nostra esperienza Quell'incontro con Cristo che noi in fondo avevamo sperimentato attraverso il cammino di formazione, di spiritualità, di impegno all'interno dell'associazione Ma anche attraverso le esperienze fatte a livello nazionale di partecipazione a convegni, a cambi scuola o collaborazioni con il centro nazionale Quindi è una lunga esperienza che però è un'esperienza che tutt'oggi fa parte della mia vita e è un'esperienza importante per me L'azione cattolica praticamente l'ho conosciuta quando ero bambino La mia prima tessera risale al 1973 con firma Pachelet E non c'è come ACR nella parrocchia della desolata Bagnoli Poi da lì è stato un continuo, ho cominciato subito a inserirmi nei gruppi diocesani anche quando nella mia parrocchia non c'era l'ACR E sono stato tra i primi a promuoverla Molto importante nella mia formazione è stato il gruppo degli educatori con Don Peppino Lamia E lì abbiamo cominciato a lavorare in diocesi e mi sono subito chiamato a collaborare in un'equipe diocesana Per cominciare a portare avanti l'ACR Poi è stato un continuo di iniziative fino ad oggi insomma Fino ad arrivare qualche treno fa ad essere Presidente di diocesano Importante nella mia formazione è stata anche la partecipazione ai campi nazionali dell'azione cattolica Sia come responsabile sia come Presidente E sono stata la parte fondamentale della mia formazione Mi hanno permesso di respirare al di là dei confini della mia parrocchia, della mia diocesi E cercare anche di intuire con l'azione cattolica una nuova modalità di essere azione cattolica Con il passare del tempo, una continuità che mi ha fatto riscoprire di volta in volta l'azione cattolica Sempre attuale, sempre pronta a leggere i segni dei tempi Io sono stato, come dire, da ragazzo nel gruppo Sperandi Quindi ho sempre portato nel cuore la realtà dell'azione cattolica 1969 ho chiuso a Cosenza il movimento Aspirandi E abbiamo iniziato il cammino con l'ACR Quindi abbiamo fatto, a livello nazionale, abbiamo partecipato alla stesura E alle esperienze del documento base sul rinnovamento della catechesi Sono stati anni di dura battaglia, lotte, incertezze e certezze E quindi si è partorito poi il 2 marzo 1970 Il documento base Poi, questo documento base Venendo con il bagaglio dell'esperienza che avevo a Cosenza Come sacerdote, assistente diocesano Qui, nella nostra diocesi Sono stato nominato subito assistente parrocchiale A Santa Maria della Grazia Assistente diocesano E poi l'esperienza dell'assistente regionale Buongiorno Beh, l'azione cattolica l'ho incontrata quando ero molto giovane Credo 18enne, 17enne Quando mi fu proposto nella parrocchia dove stavo Di iniziare a imparare a fare l'educatore dell'accede Quindi la prima esperienza dell'azione cattolica è stata con l'ACR E quindi di conseguenza in un certo modo Da vicino l'azione cattolica l'ho incontrata attraverso quelli che in quel periodo erano poi responsabili dell'ACR Sotto come prete Don Peppino evidentemente E la mia generazione che dietro le guinche adesso sta ascoltando Ha condiviso questa stessa esperienza Quindi è lì che ho imparato a conoscere, ad apprezzarla E a comprendere la sua importanza all'interno della vita della Chiesa italiana Io ho incontrato l'associazione per caso Avevo 9-10 anni Quando una mia amica carissima mi chiese di andare per caso a una riunione Quella che una volta si chiamava il Catechismo Che non era neppure l'ACR Erano le beniamine, gli aspiranti E poi come capita spesso ci sono rimasta Lei se ne è andata invece E da lì è cominciata la mia storia con l'azione cattolica Però era sicuramente Come dire Un'esperienza sicuramente Non Certamente non significativa Perché non sapevo neppure cosa fosse l'azione cattolica Però ci sono rimasta negli anni e via via Fino a quando poi Non per caso mi sono trovata a fare l'esperienza diocesana del dopo terremoto E anche lì mi sono trovata per caso una sera In diocese, in centro diocesano Dove l'azione cattolica era molto Diciamo così Veramente una piccola fiammella Che faceva luce nel dopo terremoto Quando le nostre comunità erano disastrate E per caso ho avuto l'occasione di incontrare Don Peppino Lagna Che era l'assistente regionale dell'azione cattolica Che ci ha iniziato diciamo così Ci ha fatto muovere dei primi passi Ho incontrato l'azione cattolica in prima media In dieci anni Quindi quest'anno io faccio 18 anni di azione cattolica Divento maggiorenne di azione cattolica E l'ho incontrato probabilmente come l'ha incontrata ciascuno di noi E ciascuno di voi Una persona, il mio educatore di allora Che si chiama Tommaso Che adesso è il mio grande amico adulto nell'associazione E' venuto a prendermi fino a casa E mi ha portato con le orecchie in barrocchia Visto che proprio non ne volevo sapere Questo è stato il mio incontro con l'azione cattolica L'incontro soprattutto con una persona Che ha deciso di venirmi a fare una proposta E della quale ho avuto fiducia E questa fiducia è cresciuta progressivamente Mi piace anche raccontare questa esperienza Perché penso sia estremamente comune Ciascuno di noi ha conosciuto l'azione cattolica Grazie alla testimonianza di un'altra persona E per cui anche questo inizio molto semplice Per me resta sempre un momento molto significativo Di vita, della mia vita personale Ho conosciuto l'azione cattolica nella mia parrocchia Nella mia parrocchia Maria Santissima del Rosario In Pomigliano d'Arco L'ho conosciuta attraverso la CF Che era in quegli anni alle primissime esperienze Dopo l'unificazione dell'associazione Dai vecchi quattro anni Nell'esperienza unitaria dell'azione cattolica italiana E poi nella concreta esperienza dell'azione cattolica ragazzi Conosciuta da bambino, avevo nove anni Andando in parrocchia mi ho fatto la proposta Di far parte di un gruppo dell'azione cattolica ragazzi E così ho cominciato Continuando poi fondamentalmente negli anni L'impegno in parrocchia Ad un certo punto come educatore dell'ACR E poi impegnato nel settore giovani Nel frattempo, piuttosto presto E' venuto poi il servizio che ci sa dall'associazione E le altre esperienze E' veramente difficile individuare Una situazione, un momento Infatti la cambio questa domanda Da brava insegnante Rivolto la domanda Più che un momento mi viene di dire un qualcosa E molti Le relazioni, le persone Se provo a pensare al momento Me ne vengono in mente troppi Me ne vengono in mente Il convegno indecisano In preparazione al primo piano pastorale Della diocesi Ai tempi di Loreto Dall'85, l'86 Ma ce ne sarebbero tanti altri Le feste della pace Dai piccolissimi gruppi giovani Fino al coinvolgimento degli altri movimenti Associazioni Le grandi feste dell'ACR Che tappezzavano Riempivano quartieri interi Di bambini dell'ACR Ma tutto questo Forse si può sintetizzare Appunto nella scelta che diceva all'inizio Non tanto un momento Quanto le persone I volti Le relazioni Ma non in maniera così un po' romantica Un po' nostalgica Perché i volti sono anche le fragilità Sono anche le fatiche Però sono anche quelle autentiche relazioni Che dopo 30 anni 35 anni Continuano a esserci Continuano a Ad avere segnato la mia vita Cioè senza queste relazioni Questi volti di preti Di bambini Di ragazzi Di donne Di uomini Di amici con i quali Ancora oggi Per il secondo video Questa grande Facita Questa grande bellezza Di essere L'arri di azione cattolica Ecco quindi Direi che se devo pensare Quanto di più bello Visto in azione cattolica Più che dei momenti Mi vengono in mente Degli occhi Dei volti Anche qualche conflitto Anche qualche lite Ma anche la capacità Di sanarle In nome di Qualche cosa di più alto Stare insieme Perché Ci credevamo Ci crediamo Che Che è un modo Il modo nostro In cui Gesù Al quale Gesù ci ha chiamato Il modo nostro Di amare le persone Di uomini Di uomini Senza giudicato Senza Essere pronti Ad annunciare Dei valori A volte Freddi Distanti No Ma in maniera Compagna Fratella Dei uomini Se si potesse dire Fratelli e sorelle Di questi uomini Di queste donne La mia esperienza Forte E bella Fu All'inizio Quando Partecipai All'assemblea nazionale Per la prima volta Ripeto In un momento Un po' difficile Perché Era un momento Di transizione Dell'azione cattolica C'era il cambiamento Dello statuto C'erano Vari passaggi Vare Insomma C'era C'era stata E c'era ancora Un po' di tensione E Comunque per me Fu un'esperienza Bellissima Edificante Perché Ripeto Fu la prima volta E quindi Mi piace Molto Fu molto bella Anche se C'erano Negli aspetti Un po' Di tensione E questo Posso dire Che è stata La mia esperienza Più forte Che ho avuto In azione cattolica Molte sono le esperienze Fatte in associazione In modo particolare L'esperienza Di presidente Riocesano Io sono stata Presidente Per ben Tre trienni Però E' vero Che L'ultimo Mandato Quello 2005 2008 Ha segnato Per me Una svolta Nella vita Di associazione E anche di presidente In quanto Sono ritornata A vivere Questo mandato Alla luce anche Di una nuova realtà Quella dell'essere Adulta A tutti gli effetti E di conseguenza Anche La mia relazione Con Con gli altri In modo particolare Con Con gli aderenti Con i giovanissimi Con i giovani Con gli adulti Con la CR E' stata Nuova Ecco Diversa E anche Più Stimolante Per me Perché ha permesso A me Dicevo In modo particolare Di riscoprire Alcuni aspetti Dell'essere Di azione Cattolica Del vivere Questa Appartenenza E quindi Del continuare A condividere Con Con i nuovi Ma anche Con Con quante Avevo incontrato In precedente In precedente Mandato Il cammino Associativo Sono grata Al Signore Per Avermi Permesso Di Tornare Ma anche Di Continuare Questa Esperienza Perché In fondo Il vivere A livello Unitario L'appartenenza All'azione Cattolica Attraverso Il mandato Lo servizio Dell'essere Presidente Significa Incontrare Tutta L'associazione Avere Uno sguardo Insieme Potersi Confrontare Con tutti Da Fanciullo All'agguito E quindi Sentire E' un'esperienza Che arricchisce Che dà gioia E che dà Senso Anche Alla propria Esperienza Personale Di credente E quindi Di Dinamico Inserito Sia Nella Chiesa Sia Nel Mundo Un'esperienza Significativa Per la mia Formazione In azione Cattolica E' stata La partecipazione Alla riscrittura Dello statuto E' stata per me Un'esperienza Di democraticità Ma anche Di esercizio Di discernimento Per cercare Un modo Nuovo Come già ho detto Di rileggere L'associazione E' stato bello Incontrare Tanti presidenti Diocesani Di tutta Italia Che hanno In qualche modo Rivoltato L'associazione Come un calzino Per trovare Linee nuove Ma linee Anche di sempre Una linea Di continuità Di sempre Dell'associazione In questi 140 anni Comunque La realtà Più Significativa O le realtà Più significative Che hanno Connotato Questo servizio L'ACR Sono stati Soprattutto I campi scuola Sia a livello Nazionale Sia a livello Regionale Sia a livello Diocesano Ma soprattutto Ecco Gli incontri A livello Nazionale Quando Paolo VI Ci convocava In periodi Particolari E poi Naturalmente C'era La realtà Di animazione E noi Dinanzi 25.000 ragazzi A livello Diocesano Nel 78-79 Abbiamo realizzato A Roma Il ballo Napoli Oggi Ma soprattutto Quando a livello Regionale Abbiamo Riamito 3.000 ragazzi Alla Regge di Caserta Dove Naturalmente Abbiamo Riscoperto Ovviamente A livello Regionale Che era bello Vivere insieme Camminare Insieme Lasciandosi Guidare Della compagnia Storica E reale L'esperienza Più significativa E' veramente Impossibile Dire qual è Perché Sono tantissime Cominciare Momenti Di breghiera Organizzati insieme Come assistente Del settore Giovani L'elezione Divina Vissute Insieme Ma se devo dire Proprio Adesso ci pensavo L'elemento Che poi accomuna E' dominante Fra tutte le esperienze Di questi anni In fondo E' proprio La cosa Che poi più mi entusiasma In questo momento E' la continuità Cioè nel senso Che nel tempo Siamo cresciuti Le persone Hanno fatto delle scelte Però siamo ancora qui A raccontare Non con un fare Nostalgico Ma con la convinzione Che Vivere L'azione cattolica E' una vera Proprio E' la vocazione Nella chiesa E viverla Nella continuità Di questa appartenenza Penso che sia la cosa Più bella Che possa esistere Ed è credo Uno degli aspetti Più belli Più caratteristici Dell'azione cattolica Stessa Basta Ciao Nel mio cammino associativo Non c'è stata Un'esperienza Particolare Significativa Diciamo che sono state Sono state tante E tutte Significative Perché nel momento In cui ci si sta dentro Con passione Con veramente Riconoscendo che Quella dell'azione cattolica E' una chiamata E si fa Con responsabilità Quella a cui si è chiamati Allora veramente Diventano tutte Significative Per se stessi Ma significative Per la propria vita Spirituale Personale In questi anni Ho avuto la fortuna Di fare tante Esperienze significative Dall'incontro Con Giovanni Paolo II Perché c'è la tradizione Di andare a fare Gli auguri a Natale Con i ragazzi Della CR E io Negli anni 90 Sono stata Avuto questa fortuna Di accompagnare Alcuni ragazzini Della mia diocesi Poi ho fatto L'esperienza Del Consiglio Nazionale Sempre per la CR E l'esperienza Ultima Del 4 maggio Che è stata Veramente Gioiosa Bella Dove Praticamente Abbiamo veramente Potuto sperimentare Tutti Che cosa Significhi Essere Appartenere Alla grande Famiglia Dell'Azione Cattolica E poi Certamente Un'esperienza Significativa Ma che Veramente Lascia anche Il segno E quella Che sto facendo Adesso Di delegata Regionale Dove Praticamente La responsabilità Si intreccia Con la passione E soprattutto Dove Molte volte Sei chiamata Veramente A scontrarti Con quelle Che sono Anche Le difficoltà Non solo Associative Ma anche Familiari Personali Prima Esperienza Significativa Sono state Tutte Significative Importantissima È stata La mia Esperienza Nel gruppo Giovanissimo Da giovanissimo Nel gruppo Giovanissimo Un gruppo Che era un vero e proprio Terremoto Il motore Il motore Della parrocchia Faceva mille Iniziative Si occupava Si occupava Di tutto Ecco Quella è stata La mia Prima Grande Esperienza In cui ho capito Che nella chiesa Potevo essere Protagonista Da giovanissimo Insieme Agli altri Giovanissimi Poi c'è stata L'esperienza Educativa L'esperienza Educativa Nel settore Giovani In parrocchia In particolare Da cura Sia Prima del gruppo Giovanissimi Poi Del gruppo Giovani In cui ho imparato La passione Per gli uomini Ho imparato A capire Che ciascuno Di noi Ciascuno Veramente ha dentro Un tesoro Un tesoro prezioso E ha bisogno Semplicemente Di qualcuno Che lo aiuti A tirarlo fuori Quindi l'esperienza Educativa Con i giovanissimi Giovani E ancora adesso Per quanto Possibile È un momento Significativo Della mia vita Associativa Le esperienze Fatte in azione Cattolica Sono state Tante Tutte molto Belle Ed è molto Difficile Scegliere La più bella Sicuramente Per me Particolarmente Significativa È stata Appunto Come ho detto In precedenza Il legame Con la mia comunità Parroliare Perché ho sempre pensato L'azione cattolica Come un'associazione Viva e concreta Tra la gente Un'associazione Popolare Che tale Continua ad essere Che tale Per me è stata Un legame Vissuto In semplicità In un'associazione Fatta di bambini Ragazzi Giovani Adulti Adultissimi Accanto a questo Naturalmente È stato poi Particolarmente Bello E particolarmente Importante Il servizio Che ad un certo punto Piuttosto presto Cominciato a rendere Che mi è stato chiesto Allora Mi ha fatto capire La centralità Della chiesa locale L'impegno di un'azione cattolica Unita intorno al mesco E anche il fatto Concreto Che quello che vivevo Nella mia parrocchia Era vissuto In tante altre parrocchie Della mia diosa Si ho scoperto La bellezza Dell'essere Al servizio Della chiesa locale Di questa chiesa In cui il Signore Ci dona Di vivere L'impegno di un'azione cattolica L'impegno di un'azione cattolica